Brienza, Brienza, area di rigore, Brienza, Brienza, il tiro di Brienza e c'è il gol del Bari! Il gol del Bari con Franco Brienza! Prova a dare ordine a questa manovra, poi Coppola che perde palla e attenzione perché Coppola già ammonito sta rimediando il secondo cartellino giallo e dunque il rosso. Punto un avversario, il destro! Floro Flores calcia magnificamente con il destro. L'ultima azione del primo tempo, Ledesma a cercare il colpo di testa di Meccariello, di noia, gol! Di noia, gol! Tiro, c'è il gol! Spettacolare di Galano! Brienza, il cross, la rispinta di Meccariello, Macek! Maniero per Sabelli, Sabelli in tiro di Floro Flores, Aresti! Floro Flores, Floro Flores, destro di Floro Flores e questa volta è gol! In questo momento l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi al San Nicola. Il Bari batte la Ternana per tre reti ad una.